Mario e ci dà anche l'ennesimo assist, dice ma a mio modo di vedere sarebbe meglio vendere Llorente come era uscita la voce scorsa settimana a parametro zero, cioè senza passare dal via, direbbero i giocatori di Monopoli, e prendere poi quasi gratuitamente o alla metà del costo uno Jovetic con un rischio pazzesco, perché tu prendi Llorente, non lo vedi, questo ti esplode e poi? Questo è un discorso interessante però, allora da una parte mi rende perplesso il fatto che dopo un anno di corteggiamento tu riesci finalmente a prendere questo giocatore, ad avere anche colto l'obiettivo economico di averlo preso a parametro zero e poi dall'altra è verissimo che 12 mesi fa di questi tempi c'era una lista a Torino e il primo nome di quella lista era Stefan Jovetic, non credo che Conte abbia cambiato idea e sarebbe stimolante per me, per la Juventus, per un progresso ulteriore della Juventus, vedere un altro giocatore di qualità davanti, più che gole ad or come appunto dicevamo prima questa foia di prendere il gole ad or eccetera, uno che invece i gol li fa e li fa fare. Jovetic secondo me sarebbe un grande acquisto. Però io che sono un incontentabile vorrei vedere Llorente con Jovetic, che secondo me sono una coppia assortita. Perché no? Perché no? Cioè comunque voglio dire la Juventus farà un investimento importante quest'estate? Anche solo uno? Io penso di sì, perché non Jovetic? Allora il problema, adesso lo affrontiamo anche insieme ad Alessandro, è questo. Fino a che Jovinco era quello non visto contro il Napoli, Jovinco poteva valere sul mercato, stiamo giocando, poteva valere 10-11, esattamente quello che hai pagato una settimana, la stagione scorso, magari con un benefit perché ha giocato nella Juve, ha segnato comunque, il giocatore segna, gli diamo un 15-14-15. Alla stessa maniera un Matri e un Quagliarella potrebbero oscillare tra l'11 e il 10 e il 12, no? Quindi in 3 potrebbero valere tra i 34 e i 40 milioni di euro. Corretto? Ci state? Troppo generosa? Per me è un po' eccessivo, è un po' eccessivo. 30 milioni tutte e tre? Ma più che altro Alex il discorso... No, 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 aspetta, andiamo a pezzo, quanto me lo valuti Matri? 8? Stando larghi 10? Una decina, ma stando larghi, una decina dai, una decina. Quagliarella? Eh, forse un paio di milioncini in meno. In meno? Perché non vede il campo. 6 milioni di euro. Perché purtroppo non vedendo il campo subisce svalutazione, non stiamo parlando di caratteristiche. Quindi sono troppo generoso. Ha ragione Alessandro e ci metterei un altro piccolo particolare. Volenti o nolenti, l'anno prossimo Quagliarella oltrepassa i 30 e Matrice arriva. Non sono neanche due fiori di Prato.